Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Un forte invito a vivere la dimensione della santità mettendo concretamente Gesù al primo posto, anche se questo comporta metterlo prima anche degli stessi affetti familiari. È giunto ieri dall'Arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, nell'Omelia della Santa Messa celebrata in occasione della festa estiva di San Cetteo, patrono di Pescara e dell'Arci di Ocesi. Dal Presule, che all'inizio della celebrazione è invitato a pregare per il Venezuela, che è in gravissima crisi, e per i suoi 40 anni di sacerdozio, celebrati il 25 giugno, è giunto un monito anche sulla necessità di accogliere i migranti che trovano accoglienza, detto nelle nostre Caritas, al pari degli italiani. Ne parleremo a servizi ed interviste. La nostra rubrica in onda oggi alle 18.13. L'Abruzzo sta facendo passi avanti molto importanti, alla luce dei dati positivi sul prodotto interno lordo e sull'occupazione 2015-2016. Abbiamo detto che questa è una regione cerniera tra il mezzogiorno d'Italia, l'Italia centro-nord e l'Europa. Quindi è una funzione chiave della capacità dell'Italia di essere protagonista nell'Europa. Lo ha detto il ministro della coesione territoriale, Claudio De Vincenti, intervenendo a Fonderia Abruzzo. La kermes politica è in programma in questi giorni nella bazia celestiniana di Sulmona. Sono al momento 344 le casette consegnate ai sindaci dei comuni delle quattro regioni interessati dai terremoti che hanno colpito il centro Italia. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, sottolineando che in tutto sono 3.772 le soluzioni abitative di emergenza, ordinate dai primi cittadini dei 51 comuni che ne hanno fatto richiesta. Will e Caritas insieme per favorire l'integrazione di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria. Oggi alle 10, nella sede Will Abruzzo di Via Tirino 14 a Pescara, sarà sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, Onlus, la Will Abruzzo e la Will Scuola Pescara, che darà inizio alla collaborazione tra le due realtà territoriali per migliorare la promozione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei beneficiari di protezione umanitaria, favorendone l'integrazione sociale e lavorativa, soprattutto attraverso l'attività di formazione linguistica e culturale. A partire da oggi chiude l'ufficio del sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, Mario Mazzocca, ha delegato tra l'altro alla protezione civile e all'ambiente. I locali si trovano a Pescara, in via Passo Lanciano, al quinto piano dell'ex palazzo Poste Italiane di proprietà della provincia di Pescara. Dal 26 giugno, infatti, manca la connessione di rete negli uffici del quarto piano, dove si trovano gli uffici del vicepresidente Lolli e del quinto, fatto che impedisce anche il funzionamento della telefonia mobile, fax e stampanti. Concordato preventivo al rischio per l'ACA di Pescara, la società che gestisce il servizio idrico di decine di comuni. La società, infatti, non ha approvato il bilancio entro il termine del 30 giugno. L'Assemblea è stata convocata per oggi, con all'ordine del giorno, comunicazioni relative al bilancio, ovvero solo per informare i soci, probabilmente, che il bilancio semplicemente non è pronto. È un fatto gravissimo per una società a forte rischio in concordato preventivo e che, invece, non ha evidentemente i conti sotto controllo, denuncia il capogruppo di Forza Italia al comune di Pescara, Marcello Antonelli. Dopo la mannaia di una pista ciclabile inutile e dannosa arriva la batosta della raccolta differenziata spinta porta a porta per i cittadini di via Aldomoro. L'assessore delegato Marchegiani e il direttore di Attiva del Bianco hanno, infatti, convocato i residenti per annunciare che da settembre partirà il servizio e che ciascun condominio, composto da 48 o 36 appartamenti, dovrà organizzarsi nelle aree condominali delle mini discariche o, in alternativa, pagarsi a proprie spese un responsabile che organizzerà le isole ecologiche interne ritirando i sacchetti dai singoli condomini. Una proposta chiaramente irricevibile, inaccettabile e completamente da rivedere. Se la raccolta porta a porta è idonea per i piccoli condomini o le residenze singole, è impensabile adottarla nelle stesse modalità per i grossi complessi condominali senza disporre, peraltro, di spazi idonei neanche sulla strada proprio perché è stata ridotta una sola carreggiata a causa di quella pista ciclabile voluta con cieca ostinazione dal sindaco Alessandrini. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al comune di Pescara, Marcello Antonelli ufficializzando l'iniziativa. E si terrà la ventottesima edizione della Marcia della Carità giovedì 13 luglio, 10 chilometri da Chieti a Bucchianico passando per Bivio Pozzo Nuovo a organizzare il tutto i ministri degli infermi e l'unità al sì sotto sezione di Chieti Vasto in collaborazione con il comune di Bucchianico e l'associazione culturale San Camino dell'Ellis. Il programma prevede alle 19 a Chieti presso la cattedrale di San Giustino la celebrazione della Santa Messa alle 20 da piazza San Giustino a Chieti la partenza della marcia alle 21 a Bucchianico presso la cripta del santuario la veglia della carità in comunione di preghiera con i pellegrini e alle 23.30 a Bucchianico l'arrivo in piazza San Camillo cui seguirà la benedizione con la reliquia del santo per il ritorno a Chieti saranno a disposizione due pullman per informazioni si può chiamare il 339-8319-003 ripetiamo 339-8319-003 e oggi è lunedì 3 luglio e la chiesa celebra la festa di San Tommaso Apostolo salennitane l'Arcidiocesi di Lanciano Ortona di cui San Tommaso è patrono la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano un buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Marco De Luca e Don Giancarlo Mandelli e siamo alle previsioni del tempo oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo sereno con temperature da 22 a 27 gradi e venti da deboli a moderati e nelle zone interne cielo coperto fino a metà mattino nuvoloso in tarda mattinata e nelle ore centrali poco nuvoloso nel primo pomeriggio e sereno nel resto della giornata con temperature da 21 a 26 gradi e venti da deboli a moderati il mare è previsto quasi calmo era l'ultima notizia per questa edizione del nostro rotiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne grazie per essere stati con noi a risentirci abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica e grazie per la visione per la visione in tutta di Pesare per la visione per la visione il vero Grazie a tutti.